Petro Ballesteros, direttore generale del settore di energia della Commissione europea, chiediamo il valore dell'esperienza abruzzese nell'ambito del patto dei sindaci. Sì, il patto dei sindaci, come sapete, è un po' una risposta democratica dal basso contro la grande sfida del cambiamento climatico, ridurre le emissioni di CO2 a livello del territorio, a livello locale. E' la risposta più moderna che può essere, adesso non stiamo più in una società che tutto viene distato dall'alto, bisogna che noi, ognuno di noi, abbia una responsabilità di fare le cose e che contiamo sulle nostre istituzioni che devono fare una cooperazione. Questo è facile di dire, è molto più difficile da fare, per quello che sono molto fiero di lavorare con l'Abruzzo, l'Abruzzo è un esempio a livello europeo di come tre livelli dell'amministrazione cooperano, lavorano insieme per dare soluzioni ai cittadini, come la regione sta coordinando tutto quello che fanno le quattro province e la maggioranza dei comuni in l'Abruzzo per fare pieni di azioni che danno opportunità di occupazione, che permettono di migliorare la qualità, la qualità di vita, la qualità estetica, la qualità economica dei comuni. Questo è un grande esempio di modernità nella governance, una governance molto più moderna che non è basata sulla cooperazione e la discussione, trovare le soluzioni, le idee, lo sviluppo tecnologico anche a livello local, a livello dove si trova le idee.